...per la cultura francese, Jack Lang, consegnerà venerdì prossimo a Gina Lollobrigida le insegne di ufficiale delle arti e delle scienze. Nella stessa occasione l'attore americano Kirk Douglas sarà fatto cavaliere della legion d'onore. Negli studi di Londra è con noi stasera Gina Lollobrigida e noi la ringraziamo per la sua cortesia, siamo contenti di averla qua con noi. Dopodomani, signora, lei sarà insignita di un riconoscimento francese. Premiano la sua attività di attrice o quella di fotografa. In ogni caso, i suoi meriti. Si ricorda quando a Parigi chiamavano Lellolò, certe cose che adornano le signore? Sì, io non sapevo che il mio nome aveva un riferimento nella lingua francese a un bel décolleté. Hanno anche aggiunto una parola nella lingua francese, Lollobrigidienne. Sono molto galanti i francesi. Grazie.